Per me il doppiaggio è un'esperienza di vita, nella propria vita. So che non volevi ritrovarti fuori dalla porta a una figlia 17 anni imbranata. Sono Maria Chiara Capecchi, il mio nome mi è Muscioli Lingua. Riesci a fare questo piuttosto che passare del tempo con me? Holyoke! Guarda, la mia passione per il teatro è nata quando avevo sei anni, come ti ho detto che la maestra di francese ci aveva preparato la recita di Carlo Magno in cui io facevo Carlo Magno, sei anni, una bambetta così, francese, alla pergola e io lì mi sentì completamente a mio agio. Per me era il posto più normale del mondo e quindi capì che era una cosa che mi piaceva tantissimo. Poi passano gli anni, faccio altre cose, le cose normali della vita, che prendono tanto tempo, lavorare, sposarsi, fare figli, eccetera. Oh! Se sono una merda è solo perché sono una merda. E hai il diritto di avercela con me, ma sappi che qualunque cosa faccio non è colpa tua. E quindi poi, quando un pochino di spazio si è creato nella mia vita, non mi sarebbe più bastato fare l'attore sul palco. Io volevo fare un lavoro proprio di doppiatrice. Che è un lavoro all'interno, perché non hai niente da dimostrare. Cioè non c'è l'ego da nutrire. Non mi interessa nutrire l'ego. Vostro onore mi pare che sia abbastanza. Ha convinto la sua inquilina Linda Morelli a testimoniare che Trisha Stanley era stata uccisa dal fidanzato David Allen. Lei è fuoristrada. Mi interessa poter esprimere ogni parte di me stessa. Ogni emozione. Io sono una persona molto estroversa e va benissimo. Anche molto irruenta. Il doppiaggio ti fa modulare, ti insegna a modulare ogni emozione. Dalla piccola alla grande, l'intensità, la qualità dell'emozione. Disciplinandole. Per poter far arrivare il tuo messaggio. Sia quando sei in ascolto, sia quando parli. Lei è fuoristrada. Le consiglio di fermarsi qui. Perché la sua intimazione di sfratto contro la Morelli fu ritirata malgrado non avesse pagato l'agito. Avvocato Kitting! Quando Simone ha dato la sua disponibilità al mondo come insegnante di doppiaggio mi sono tuffata a pesce per approfondire la cosa. Dice che sei stupida e brutta. Sì, se ne va, vero? Capito, tienila un po' più sospesa. La competenza di Simone e di Marco sono un'altra cosa. Mentre se ci fate caso io le dico, tutte altre, che siano due gruppo, voi perdete l'attenzione. Il suo modo di porgere la sua competenza è veramente particolare. Che ti porta lei i buoni? Invece a poco, chiedete le porte. Chiedete le porte. Brava. Anche più buce. I pochi miglioramenti che ho fatto, veramente, è un merito loro. I milioni fatti una volta, tolta di mezzo la signora Stanley. Avvocato Kitting, basta! In questa scuola di doppiaggio, doppiamo tante volte in due, a Leggio, perché bisogna sintonizzarsi. Quindi è intanto importante l'uno quando parla, ma l'altro deve dare la sua presenza piena, in particolare, al microfono, al... Devi guardare bene, prima di tutto, l'attore Simone ci dice guardala, guardala, guardala senza perdere un battito di ciglia, un respiro dell'attore, perché tu devi diventare quello. Telefona, dice una cosa e poi la fa. Anche io posso fare queste cose. Ma non le hai fatte! E sempre quel saggio mi ha detto che io sono la regola. Che devo dire che dentro ognuno di noi c'è un'infinita di emozioni, esperienze, persone, personaggi. Quindi questo pescare per doppiare il tal personaggio, pescare dentro di me quel personaggio, che sicuramente in qualche modo, in qualche parte c'è, è far nascere se stessi e manifestarli. Contemporaneamente all'umiltà dell'ascoltare, guardare, per entrare davvero in comunicazione. Quindi all'inizio il doppiaggio è entrare in comunicazione, intima, profonda, emotiva, presenza, con l'attore che dobbiamo doppiare. Ma questo è un atteggiamento di vita per me, di imparare ad ascoltarsi e a trovare dentro di sé ogni personaggio che ci viene chiesto di doppiare. L'umiltà è la disciplina dell'ascolto dell'altro. Questa storia di che la madre forse non vuole stare nella stessa casa con noi e il padre... No, no, non è questo. Non riesco a beccare cos'è. Quale sarebbe? Non è niente. E come lamenti col fatto che sei stata, diciamo, licenziata? Gli unici che ne sono a corrente siamo noi tre e presto resteremo in due. E io sono... La scuola mi piace perché è un'esperienza di vita, è un lavoro su se stessi, è un ascolto di se stessi e in questo caso del personaggio che ci dobbiamo medesimare nel personaggio che dobbiamo doppiare e quindi dobbiamo trovare dentro di noi quella parte ed esprimerla perché già la parola è limitata. Se non la sappiamo usare, invece se la sappiamo usare, sia il tono, il timbro, il tempo, sia il tempo dell'ascolto, sia il tempo del parlare, penso che possiamo entrare in comunicazione con l'altro. L'arte ti libera da tutti i pensieri della vita normale e ti nutre, e ti nutre. Io sono la regola, che devo smetterla di pensare che un uomo può cambiare, che devo smetterla di pensare... Poi va bene, non piace, bisogna cercare di esprimerla e di interpretare nella migliore delle maniere che è l'attrice che sta recitando e questo a me dà un piacere immenso, non so descrivere perché, è proprio gioia pura e sparisce tutto il resto degli argomenti della mia vita. Ah, io farei il doppiaggio 10 ore al giorno. Perfetto, con lui fuori dai piedi e nessun erede al trono, io governerò il suo posto e governerò l'impero! Mi piace! Oh, Grunscott, lei venireà in piedi con me? Prego lei montare subito, io tanto aspettare! Dai! Non mi vergogno di niente, io non mi vergogno più, anzi do valore, mi sembra che il doppiaggio ti faccia dare valore ad ognuna delle tue parti diverse dentro di te. E tutti noi allievi siamo migliorati tantissimo, anche i ragazzi che me lo fanno da pochi mesi. Subito c'è una svolta, evidentemente, la guida, guida bene, sono molto grata. Ho avuto un ruolo in un film, il miglior regalo, ed è stata un'esperienza assolutamente appagante, impegnativa, emozionante. Io spero di lavorare nel doppiaggio fino alla fine dei miei giorni, anzi sempre di più, diventare sempre più brava, più credibile, più ascoltabile. È uno spazio mio, ecco, mi sembra come se nel doppiaggio, quando penso al doppiaggio, faccio gli esercizi, vengo a lezione, rivedo, risento i video della lezione. È la vera Chiara, è la vera Chiara intera. Io sono libera dal giudizio di me stessa, sono grata di poter esprimere tante parti che nella vita normale mi sono state inibite, inibite perché la famiglia, la società, il lavoro, il ruolo materno, il ruolo di moglie, ti chiedono solo un pezzo di te. Viene negato alla maggior parte di noi stessi. Ecco, il doppiaggio per me è libertà. Grazie. 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 Grazie.